Siamo in Calabria, nei preparativi per la Pasqua. Abbiamo deciso di fare i coloraggi, una ricetta tipica calabrese. Gli ingredienti sono molto semplici, molto importanti, ma semplici. Basta poco per fare la colomba, la gallinella, il cuore, la stella. Basta poco per fare la colomba, la gallinella, il cuore, 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 il cuore. Il cuore, il cuore. Il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore. Il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore. farina fare il burro con lo zucchero l'uova e tutti gli altri ingredienti fino a farlo sciogliere lasciare un pochino di zucchero e poi se arriva alla farina una volta impastato bene arriviamo la farina e rischiamo dentro e fare una forma e il lievito e iniziamo a impastare e fare la nostra pascapola grazie la pasta polla è fatta un impasto liscio ecco qua ecco qua un pochino ecco declinare arrivi facoltare metano quando che tornare e è Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La cottura deve essere così Uniforme, di sotto e di sotto Grazie a tutti Grazie a tutti